Quando lo sport aiuta a superare i pregiudizi, a favorire l'integrazione, succede a Montecatini con la dodicesima edizione di Tutti i Matti per il Calcio. 16 squadre provenienti da centri di salute mentale e ASL di tutta Italia si sfidano sul campo di calcio nella manifestazione organizzata dall'Unione Italiana Sport per Tutti. Federica Sevi. Lo sport come terapia, il calcio come riabilitazione. Con l'aiuto dello sport riescono a riacquistare più velocemente tutte quelle azioni quotidiane che sono con la normalità, quindi raggiungere un campo di calcio, partecipare ad una gara con delle regole. In campo 16 squadre provenienti da tutta Italia, composte da persone con disagio mentale, infermieri, operatori e medici. Abbiamo giocato, siamo divertiti, abbiamo perso, abbiamo vinto, ma sotto queste cose c'è qualcosa dentro di noi che se riesce a esternarla è come se fosse una ventata. È una scoperta di se stessi. Piano piano ti chiedi, ti poni degli obiettivi maggiori, cerchi di superare i tuoi problemi. Cartellino rosso per la discriminazione e il pregiudizio. Le tre giornate di calcio e socializzazione organizzate dalla WISP Unione Italiana Sport per Tutti sono frutto di un percorso che ha l'obiettivo di favorire l'integrazione e vincere l'isolamento. La parola chiave è stare insieme.